Dal mio diario. Milano, 20 aprile 2020. Detergo ad una duna, con una pezzuola di spugna, le foglie della spidistra sul balcone. I foglioni che la nonna, lei non aveva letto Orwell, di tanto intanto affidava alla pioggia. L'ho accanto adesso, in questo grato sperpero di tempo concesso dal tempo ingrato della reclusione. Mi accanto e scuote il capo di tanto eccesso di manutenzione. Milano, 4 maggio 2020. Finalmente oggi, dopo due mesi chiusi in casa insieme, siamo usciti separatamente. È stato così che oggi, nel parco, ho riprovato la gioia di incontrarti. Milano, 10 maggio 2020. Troppo uguale per tutti, troppo democratica la paura del coronavirus. Sarà sicuramente sconfitta in tempi rapidi e ancora più rapidamente sotterrata. Ivana Tanzi, per il Festival Internazionale di Poesia di Milano.